Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il nostro programma di approfondimento di politica, cultura, spettacolo e società. Oggi parliamo di arte, abbiamo un ospite, perdonatemi i toni eclatanti, un ospite meraviglioso. Diamo il benvenuto a Igor Scalisi Palminteri. Ciao a tutti e a tutti, è un piacere stare qui in vostra compagnia, anche in tua compagnia. Ti ringrazio Igor. Allora, guardate bene il volto di Igor, io credo che sia uno degli uomini più buoni del mondo, ha un modo di raccontare le cose così paciose, così semplice, che è in grado di spiegare meccanismi complessi e quei grandi misteri della nostra vita quotidiana in maniera semplice. Ma Igor è un pittore, è un artista, è un pittore che sta trasformando la natura delle periferie di Palermo. Igor, però, prima di parlare di arte, io vorrei che tu raccontassi brevemente le tue meravigliose sette vite, perché mi hai detto che sono state almeno sette, fino adesso. Sì, sono sette vite meravigliose, certo, sì, poi alla fine ogni vita è meravigliosa, quindi sì, io comincio vivendo in un quartiere diciamo abbastanza popolare, tra via Cappuccini, la Zisa, conosco i frati Cappuccini da piccolissimo e a vent'anni entro in convento. Quindi per sette anni sei stato, perché non l'hai fatto, sei stato un frate Cappuccino. Sì, sono stato un frate con l'arte. Però sin da piccolo c'era la vocazione alla pittura, al disegno? Sì, perché comunque prima di entrare in convento ho fatto il liceo artistico e lì ho cominciato, ho continuato a dipingere, ho conosciuto un maestro che dipingeva le icone, ho cominciato a dipingere e a pregare con lui e poi infatti questo background, questa storia, questa esperienza l'ho riportata. Poi quando ho cominciato a fare l'accademia ho cominciato a dipingere santi, chiaramente alla mia maniera. I miei primi santi furono nudi, ragazzi e ragazze dell'accademia che io fotografavo e poi dipingevo nude perché pensavo che la santità avesse come base questo principio, la purezza di un corpo nudo che non aveva bisogno di orpelli. Che è una visione paradossale rispetto al decadimento dei tempi dove oggi l'unità è blasfema, è eretica, è segno di violenza e di possesso. Tu invece riporti l'unità al suo valore originario. Sì, io sento dire adesso comunque delle persone che influenzano la società ritornano al corpo. Questa cosa io l'apprezzo molto. Il nostro corpo è la nostra verità in fondo. Il nostro corpo ci crea tanti problemi psicologici, però se tu ritorni al tuo corpo e cominci ad accettare l'involucro in cui sei stato messo, probabilmente cominci anche ad avere una percezione diversa delle cose che ti stanno attorno. Per me i santi erano nudi. San Francesco era nudo di spalle con dei buchi nelle mani perché lui è belestimate e così via. Giovanna d'Arco era nuda con un estintore perché doveva spegnere questo rogo che l'aveva bugiato. Giocavo sempre un po' in questo senso. Poi di lì pian piano io non ho mai smesso di lavorare nelle periferie della mia città e sono stato uno dei fondatori di un'associazione che lavora alla Zisa che si chiama Centro Tau e lavoravo con i minori a rischio di esclusione sociale e con loro ho cominciato a dipingere i muri, i primi muri più bassi. Se io prego la regia di mandare in onda delle immagini che vengono dal sito, dall'archivio proprio di Igor che dimostrano esattamente quello che fa. È un racconto di una città, il racconto che parte dalla periferia per cercare una nuova integrazione, dove però l'alveolo dell'unità è la santità che un po' questa città ha perso, vuoi recuperare questa santità anche attraverso le cose materiali della vita. Sì, è santità e forse è quella dimensione spirituale di cui non finiremo mai di avere bisogno. Non è bigottismo, non è credenza popolare, ma è qualcosa di più profondo. Io sento che se ci aggrappiamo alla dimensione spirituale forse possiamo essere dei palermitani e delle palermitane migliori, delle persone migliori. Questa dimensione ti fa comprendere che non sei solo materia, non sei solo le tue scarpe o il tuo cibo, ma sei anche qualcos'altro. La vita non è soltanto un happy hour, è qualcosa di più profondo. Non c'è solo una pericena da fare, che è anche fondamentale alla fine di una giornata, senza giudizio sai, ma c'è anche quella roba che ti consente di fermarti, di fare silenzio e di capire chi c'è attorno a te. Tu parti da progetti che comunque tentano di includere anche quelli che per questa città... I cattivi. I ultimi, no? Perché i cattivi? Secondo me non esistono i buoni cattivi. Sì, perché tra gli ultimi ci sono anche tanti che sono giudicati cattivi. Noi lavoriamo anche con i minori seguiti dai servizi sociali, abbiamo fatto ultimamente con Sperone 167 dei progetti dentro... Cos'è Sperone 167? Ma è il nome di due periferie, no? Sperone, quello di Palermo, e 167 che è la periferia di Lecce. Facciamo un gemellaggio. Si sono incontrati due artisti, io e Cecos, e abbiamo detto ma coinvolgiamo i luoghi in cui lavoriamo e siamo andati a Lecce e io ho dipinto un muro grande, poi ne abbiamo dipinto alcuni piccoli con i bambini di Palermo e di Lecce insieme. Che bella cosa. Insieme ad Afe Art Room, che poi è Danilo Dolci, è Danilo Alongi, abbiamo inventato coinvolgendo un sacco di realtà... Quell'app su storico però secondo me è significativo, perché l'avere citato Danilo Dolci non può essere casuale. No, non lo è. Io fra le altre cose ho fatto il suo ritratto a trappeto, l'ho vissuto per una settimana lì a Borgo di Dio, Danilo Dolci è una figura fondamentale per la pedagogia contemporanea, ma anche per la poesia contemporanea. Lui era anche un artista e ci ha insegnato ad avere una visione, forse è quella che manca oggi in queste periferie. Sai la cosa che mi ha colpito? Perché manca questa visione? Perché sono state delle città maciullate in realtà, dai pieni regolatori sbagliati, dai servizi che vengono legati alla gente, anche perché dobbiamo raccontarci la verità, tutta la gente che vive in questi quartieri è stata sfiltrata dal centro storico di Palermo, è messa nei quartieri ghetto, e non hanno più neanche servizi, non hanno lavoro, è un incubo, ce l'ha aperto. Sotto il muro di Biagio Conte c'è una taverna che è gestita da un signore che ormai è un fratello, e lui mi ha raccontato la sua storia, ce l'ha raccontata più volte, lui viene dalla calza, ci siamo arrivati in quel quartiere negli anni cinquanta, proprio strappati dalla loro dimensione, ci siamo arrivati qua e dice, certo qua era tutto bello, però noi avevamo una tavola e quattro sedie, però eravamo reci in famiglia, e dice, mia madre ha messo una sedia da una parte, una sedia dall'altra e ci ha messo una tavola, e così ci sedevamo per mangiare, poi avevamo un cispito, dice, ma tu sai cos'era un cispito? E io ho detto, è certo che lo so, perché era solo bolognese. Quindi questo per dirti che questa povertà portata in un luogo dove non ha servizi, da adito a un'autogestione, nel senso che non è autodeterminazione, perché non hai gli strumenti, nel senso che comunque io sono in un luogo dove non c'è niente, io faccio ciò che voglio, perché io devo sopravvivere. Quindi se io uomo, gruppo, vengo lasciato da solo, e non divento comunità, e non mi sento comunità, è chiaro che sempre di più faccio un percorso che mi allontana da un senso sociale, comune, da quella roba che ti fa crescere, anche culturalmente. Perché la povertà che in questo momento affligge la nostra città in alcuni luoghi, anche alcuni luoghi della nostra città, è che è più grave, non è quella economica. È quella del sentimento. È quella culturale. Non soltanto, io direi anche quella del sentimento. Probabilmente. Il sentirsi delle macchine. E questa dimensione qui, questa assenza chiaramente, genera questo scollamento, sentirsi buoni e cattivi. Chi è il peggiore? Chi è il capo respiratorio? Allora il nostro lavoro ci consente di avvicinarci con meno pregiudizio a certe realtà, a certe persone che altrimenti altri non avvicinerebbero. Cioè tu arrivi dove sostanzialmente lo Stato non mette più piede o mette piede soltanto? No. O ci arrivi con la polizia. O ci arriva con il regno di cittadinanza per dare il contentino un pochettino così, per legare ancora di più, come dire, al gioco politico. Probabilmente. Noi ci arriviamo in un modo, proviamo, eh, proviamo ogni giorno ad arrivarci in un modo diverso. Il nostro strumento è la pittura, però quello è un pretesto. Io dico sempre che un muro è fatto da quando sono sopra il cestello, sulla piattaforma aerea, è esattamente importante la pittura. Posso ricordare, diciamo, a chi ci segue una cosa, cercate le opere di Igor Scalisi, Palminteri su YouTube, guardatele e venite a Palermo a vederele perché sono veramente magnificenti. Cioè lui fa parte di quella disciplina che si malendarte. Cioè queste robe si vedono pure dal cielo. Sono delle meravigliose icone che raccontano la religiosità di una città, una religiosità che stiamo perdendo, ma in una dimensione è talmente gigantesca, invasiva, che racconta lì il vero paradosso del sentirsi distanti alla città. È come se tu avessi voluto la grandezza, deve diventare il collante per riunire le due anime di Palermo che si sono separate. Io penso che con queste opere, per esempio adesso allo Sperone, ma ne abbiamo fatte in altri posti, siamo al dipinto numero 7 con quello di Biagio Conte che abbiamo inaugurato il 12 a un mese. Ora è il 9 marzo, se non sbaglio, c'è un'iniziativa di beneficenza molto importante, invito tutti a partecipare ai Candelai. Cosa fate? Fate una raccolta fondi per consentire a un altro autore di porre il suo sigilo su un altro muro di Palermo, l'ottavo muro allo Sperone. L'ottavo muro allo Sperone, siamo felici di questo, ai Candelai il 9 marzo diversi musicisti hanno aderito, artisti ci sosterranno, ne cito due, adesso tre, perché c'è Serena Ganci, c'è anche Alessio Bondi che ha dato la sua disponibilità a suonare con noi, c'è un DJ set, Rodan di Maria, quindi è un parterre di artisti vario, il biglietto costa 15 euro, sul nostro sito Sperone 167 potete trovare il modo per comprare il biglietto e venire con noi a festeggiare, la raccolta ci consentirà di dipingere il muro numero 8. Il numero 8 è segreto, è un artista, non lo vogliamo ancora svelare, è stato un colpaccio perché è un artista veramente, lui è un italiano, di origini pugliesi ma vive a Milano, è un artista internazionale, ha dipinto, anche tu sei un artista internazionale, a te non te ne frega niente delle marche, delle etichette, ha dipinto in tutto il mondo, ha dipinto in tutto il mondo ed è bravissimo e avere un suo pezzo per noi è fondamentale, appena gli abbiamo raccontato il progetto ho detto, ma noi io conosco Sperone 167, sono felice che state facendo e quindi ha sposato appieno questa... Piccolo sgambetto, io ho letto alcune tue dichiarazioni, anzi non è uno sgambetto, in realtà è un assist che ti faccio, diciamoci la verità, l'avevo voluto mascherare a sgambetto per creare un po' di suspense a chi ci segue ma in realtà sono crollate immediatamente. Ho letto alcuni tuoi scritti dove tu dici, insomma qualcuno si lamenta di queste opere così gigantesche su Palermo, ma state tranquilli perché poi il tempo le deteriora e questo secondo me è detto da un artista, io non ho mai sentito dire un artista che valorizza il decadimento della propria opera. Ma sai, quando i sindaci o gli assessori dei paesi in cui ho dipinto mi chiamano, la seconda domanda è, dopo quanto costa, mi dicono ma quanto dura? Ma quanto dura? E io do dei tempi approssimativi perché comunque sono... Secondo me è una parte... Ma loro lo chiedono per liberarsene o perché vogliono che duri il più possibile? No, lo chiedono perché investono dei soldi e vogliono che duri il più possibile, invece uno dei fattori determinati, la peculiarità di questo tipo di arte che sta all'esterno è la caducità, il fatto che è destinata a deperirsi e io questa cosa la trovo interessante, la trovo anzi preziosa perché poi chiameremo un altro artista a farne un altro, copriamo quello e ne facciamo un altro, oppure si sceglie di restaurarlo perché quell'artista è importante, per esempio Kate Ehring che ha dipinto a Pisa, per il comune di Pisa quello è un muro fondamentale e quindi nella parte bassa è coperto da un plexiglass, il dipinto è stato restaurato più volte, poi è una scelta, no? Ma pensare da... Pensare che tutto duri per sempre è sbagliato. No, no, ma assolutamente, e questo è molto bello. Io ho dipinto, per esempio, il mio primo lavoro da solo senza i bambini è stato nel 2017 in Buciria, che ho dipinto la Santa Morte, ogni volta che passo da lì faccio una foto perché quel dipinto che è basso è in continua trasformazione e questa cosa io la trovo molto interessante. È come se avesse un percorso di vita quell'opera. Sì, è come se quell'opera fosse dipinta anche dalla gente che vive il quartiere, alcuni, è chiaro, può suonare a volte come uno sfregio, ma io la sento molto come il fatto che quell'opera è viva ed è viva anche attraverso l'intervento della natura, dei fatti, degli agenti atmosferici, come si suol dire. Ora, diciamo, entriamo un poco all'interno della complessità delle tue opere. A me è colpito particolarmente, ora è chiaro, tutti sono molto attenti alla tua ultima opera che è il volto di Biagio Conte, il ritratto di Biagio Conte che tu hai fatto proprio all'angolo della strada che porta alla missione di speranza e carità. È chiaramente una bellissima testimonianza, tutti noi sappiamo quanto ha dato Biagio Conte a questa città e quanto secondo me ancora potrà dare con la sua, come dire, ascesa. Quello che però a me ha colpito di più dalle tue opere è il Sant'Erasmo alla bandita, perché là c'è un messaggio che non è soltanto religioso, ma è anche un racconto di denuncia, perché lì Sant'Erasmo tu gli hai messo i giubbotti, i salvataggi, i remi, e non sono i remi dei pescatori, sono i remi dei migranti quelli. Sì. Cioè, nelle tue opere c'è questa denuncia sociale pure. Perché? Forse i miei dipinti possono essere sacri, però sicuramente io non li impingo perché voglio portare, non è proselitismo nei confronti della religione cattolica. Dipingere un'icona per me è un pretesto, uso uno strumento che è facilmente comprensibile ai più, però il mio è un discorso politico, politico inteso come interessamento per la polis, la politica, la vera politica, è un modo di fare politica e di stare dentro la questione sociale. In quel caso lì, diciamo, quel dipinto ha perso tutti i connotati iconografici originari di un Sant'Erasmo, che è sì protettore dei pescatori, ma per me diventa un uomo pronto per andare in mare a soccorrere chi sta tentando di avere una nuova vita e attraversa il Mediterraneo. Io l'ho dedicato alle ONG che lavorano per salvare vite umane ogni giorno. E quindi capisci bene, come tu hai intuito perfettamente, che dipingere un santo per me oggi è un pretesto. Che cos'è la santità per te? Per me la santità è una cosa molto semplice, che è lontana dai processi di beatificazione e dal bollino della Santa Sede. Per me la santità è il padre di famiglia che deve ogni giorno uscire di casa e fare con fatica a dare da mangiare ai propri figli e vivere in certi quartieri della mia città ci vuole santità. Rispetto alle tue opere c'è pure una sorta di piccola legge del contrapasso come se ci fosse un'altra parte, un'altra barricata che lavora in senso opposto. Mi riferisco ai dipinti che sono usciti qualche anno fa e che ora sono diventati pure magliette. Quei dipinti che richiamavano un po' in maniera, hai capito cosa mi sto riferendo, un po' scomposte, anche un po' grossolana, Andy Warwick dipinge Matteo Messina Denaro. Cioè c'è anche, come giudichi quel tentativo dal punto di vista artistico? Io sono sempre e comunque per la libertà di espressione. Ho bisogno di capire cosa ha spinto a fare questa riflessione. Che riflessione? Peraltro era un gruppo di ragazzi, non c'era nulla di... No, dove mi porta questa cosa. Credo sempre nel dibattito aperto. Anzi, il confronto ci può far comprendere meglio delle cose. Quindi io ritengo che azioni come queste siano probabilmente necessarie perché sollevano delle questioni importanti. Comunque si apre un dibattito. Sì, e il dibattito è fondamentale. È fondamentale. È fondamentale sempre potersi mettere attorno a un tavolo e dire delle cose e esprimere la propria opinione. Io sento questa libertà perché, pensaci, quando faccio un muro così grande di 24 metri, è un'invasione terribile. Noi stiamo mutando la percezione del paesaggio urbano. Qualcuno potrebbe dirmi io non voglio uscire da casa e vedermi sti faccioni ogni giorno. Qualcuno me lo dice pure. Quindi comunque invece sono lì a tentare di dire la mia e quindi rispetto chi ha bisogno di dire e esprimere un'opinione. Anche se a volte è scomoda, è pungente, non è esattamente quello che io vorrei sentirmi dire. Però devo essere pronto ad ascoltare. Ad ascoltare tutti. Ho una piccola curiosità. Ma ti è venuto mai in mente di dipingere il volto di qualche politico che ti ha colpito nel bene o nel male? O è una cosa che proprio non rientra nella tua corda? Guarda, se tu parli della classe dirigente contemporanea, io avrei difficoltà, onestamente. È un lavoro difficilissimo. Però non è il bacino a cui attingo. Non mi è venuto mai in mente. Penso Aldo Moro, per esempio. No, guarda... La cifra di Aldo Moro era l'uomo al centro di tutto. Ma sai che penso? Quando si entra... Allora, c'è un problema. Noi siamo sempre e costantemente in campagna elettorale. Sì, questo è vero. Il mondo è in una campagna elettorale continua. Quindi quando io prendo un uomo che comunque aderisce a un partito, io già mi sto schierando. Ti stai schierando. Io non voglio schierarmi. Ma non perché non voglio prendere posizioni. Io ho le mie idee. Ma perché non è quello del luogo. Ma non è... Non è il metodo, non è il luogo. Sarei ingiusto. Altrimenti trasformi la tua opera artistica in un volantino elettorale. Questa è la sintesi. Non lo vuoi fare. E questa cosa è rischiosa, ingiusta. E si presta a fraintendimenti, non è il caso. Ora, ho una curiosità. Ma quanto è difficile? Il tempo sta finendo. Quanto è difficile? Capisco che in un minuto non mi puoi dire. Tu prima la pensi l'opera, poi la sviluppi tecnicamente con tutti questi macchinari che ti accompagnano. Prima la pensi. Cioè, fai una bozza di riferimento. La progettazione è necessaria. La progettazione prevede un confronto con le persone che mi hanno chiamato, con le persone che vedranno l'opera. Io faccio le riunioni di condominio. E ci picchia. Ce la faccio a dirle in questi pochi secondi. Certo. Quando ho fatto Io sono te, che è questo bambino con le braccia allargate che aveva una croce dietro, quelli del condominio mi hanno detto ma noi bai sa non c'è la croce. E io quella croce l'ho tolta. Loro sono diventati autori insieme a me di quel dipinto. Bellissimo. Allora, Igor, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Io ho 20 secondi per ricordare a tutti che ci vediamo il 9 marzo ai Candelai a Palermo per fare in modo che il quartiere Sperone abbia il suo ottavo muro dedicato dall'associazione Centro Tau. Chi interviene? No, Sperone 167. Sperone 167 in questo caso. Igor, grazie ancora. Un caro saluto a chi ci ha seguito. Buona giornata e alla prossima edizione di Talk Sicilia. Ciao.